E poi ci vuole il cristianesimo secolarizzato, cioè ci vuole l'idea che questo mondo non è abitato dalla divinità, mentre a Roma il mondo era abitato dalle divinità, era teologia civile nel senso storico del termine quella di Roma. Noi invece crediamo che Dio sia nei cieli e che sia sempre più, e tanto più passa nei secoli quanto più crediamo che il suo essere nei cieli ci coinvolga sempre meno. E crediamo che tutto ciò sia il cristianesimo, cioè il cristianesimo come la religione che dedivinizza il mondo. Questa è l'essenza del cristianesimo, la dedivinizazione del mondo. Cioè togliere al mondo ciò che resiste, perché poi questo vuol dire, togliere al mondo le qualità, ciò che resiste alla manipolabilità, alla capacità umana di manipolare il mondo. Noi abbiamo trasformato il cristianesimo in una dottrina universale dei diritti umani, in una idea universale della necessità della convivenza civile e pacifica. Ma non crediamo che Dio sia il fondamento della politica. Questo lo credeva Dante, beato lui. Poi naturalmente davanti al disordine diceva che il disordine è il peccato. Noi partiamo dall'idea che c'è il disordine e che al tempo stesso c'è una promessa o esigenza di neutralizzazione, di conciliazione, e questo è ciò che resta del cristianesimo. Politicamente, poi ciascuno nel suo cuore lo vive come vuole, se vuole, e poi esiste una capacità sociale della Chiesa, ma questo è un altro discorso. Stiamo parlando di strutture logiche immanenti alla politica. Stato moderno ha bisogno di cristianesimo secolarizzato, cioè ha bisogno di una crisi, nasce da una crisi, le guerre civili di religione, quando il nome di Dio non è più il nome della pace. Non si può più dire siamo tutti fratelli in Dio perché di Dio, Dio si dice in troppi modi, e sono tutti nemici l'uno dell'altro, e l'Europa si ammazza per 150 anni, e allora bisogna trovare un Dio in nome del quale nessuno si ammazzi, cioè un Dio talmente esile, talmente svuotato, di poche pretese, e al tempo stesso talmente cogente che egli sia capace di produrre, di essere la legittimazione originaria della pace e non motivo di guerra. Questo Dio, storicamente, è il Dio del deismo, è il Dio orologiaio, è il Dio che crea il mondo, gli dà delle leggi e poi si ritrae e lo lascia funzionare, è il Dio che dà ai suoi tre figli i tre anelli diversi, e il scopo dei tre figli è capire che quei tre anelli diversi gli ha dati appunto Dio e che loro sono tre fratelli figli dell'unico padre. Questo per noi diventa la dottrina dei diritti umani.